Musica 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 Ciao ragazzi, vengo su un nuovo video da il King dei Dragoni Eh ma ci raga, la prima cosa è la deltaplana challenge Eh, praticamente se qualcuno ma non lo so ma è impossibile Il deltaplana di quella realità Dovremmo scegliere in quella cosa di realità E poi raga, link in descrizione al canale di Simolo E link in descrizione pure le nostre magliette 999 Non c'ho da dire altro, quindi cominciamo Bella Ci siamo A me è nascito verde, penso si è verde Ovviamente, leggenda Ovviamente Ma è verde questo o blu È verde o blu E che cos'è, ride in rosa È verde o blu questo, vedi Verde Verde Verde, verde Perchè blu ho messo quello la Del volume Oddio 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 Ragazzi Prima abbiamo fatto un tentativo di merda però Ovviamente Prima Tutto Verde Tutto Ok, pure io Io ho il Pure io ho la R verde Per ora Per ora Non c'è un canale E' un cavolo E' un cavolo Quello da mangiare è il cavolo eh Buonissimo Va bene Va bene alla salute Eh sì Grazie Io vorrei un'arma E' bello che mi trovi E' bello che trovi E' bello che trovi la pistolina leggendaria Questa La gente è ca... C'è il resto Questa Questa Qua Qua Vai vai È morto Qua Qua Poi C'è lì Qua raga sono Tutto verde Tutto verde Qua Volete vedere che è il gioco Guardate Questo è il segnale Guardate Incavolo Un cavolo C'è, non posso sapere che è il gioco Quello Vabbè Sì dai Vero Granate ci guacho vero trova l'arma etica trova un'arma etica c'è se non sarebbe un po' da questo 400 di massi un'arma è poco si ho tre bravo guarda che oggi tu morerai guarda che è un'ottima arma tieni guarda che arma hai guarda che non si sa non lo sceglie ma guarda no vabbè guarda la prossima vale la prossima vale bella 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 bravo è un tit questo è un'arma leggendaria te la puoi fare leggendaria guarda ma che ti servono? guardate che bello perchè prima si riuscire a scoprire vabbè posso uscire ma leggendaria almeno eh vabbè oh una cassa ragazza vai di fuori qui però quando esce una pistola leggendaria io ho vinto e metto il gioco no le bombe le bombe vabbè c'ha pure la piozza ma no 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 siamo fatti no ragazza c'è vinta Carlo quanti mazzai? io c'hanno 45 45 bene 100 io devo fare qualcosa di leggendario e io vado a prendere l'aria io vado a prendere l'aria che ho forza che ho forza mi invia con mia raga se non trovo forza andiamo la che è più vicino e non c'è nessuno andiamo vai no per andare a leggendario vai Carlo vai vai ti prego arma leggendaria arma leggendaria siiii arma leggendaria oh eccolo eh rara non parlate che ora non mi sento manco niente ti manco niente ti manco niente oh oh faccia a me oh 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 vabbè vabbè dai uno a bianco uno a bianco carlo ora ma giocare le bombe carlo se le sono fu se le sono fu no no io me lo potenzi no no te lo potenzi ma vado che c'è qua non l'hanno provato però boom boom double 74 a quello boom uno vai carlo ma ci sei forte vai carlo diconate 18 18 a 1 bianco se ne vanno se ne vanno andiamo andiamo visti? visto? no si vabbè quante jump ha? ragazzi quello là 18 jump ha rigiampato? no vabbè ma dov'è? ma dov'è? no caro grande grande ecco c'è il rampino c'è il rampino carlo è tuo carlo ho passato il rampino grande vai carlo ho prendito il rampino ah no ragazzo mi prendete molto male? sicuramente ragazzo io lo consiglierei come arma si dai non ce l'ho io ma da questa partita la possiamo vincere? Ma dai quella no, io sto prendendo ancora quella di prima No Dai No Malissimo Perché se mica adesso non mi posso potenziare Tieni Ho 71 di ferro, ti basta? Ma raga ma io c'ho mazzito il vento di ferro No non mi basta, no mi serve tu, mi serve un po' di ferro Ma da, ma... No, no vabbè Qua è una pezzolina buono No frangeli Ehm, non si può essere? Si Aiii, sparse l'agentario Sono brutto per la madonna io ragazzi Beh raga qua ci facciamo 99999 999 No però io sono triste per una cosa C'è quello al volino in là c'è l'avevo spaccato Quanti metri? 324 No 350 Quasi 400 Perchè Perchè Dormino Vabbè o ce l'ha il lutto buono eh Vabbè Quasi è? ah, è scari medico scari medico, le genero? si, si, medico vale io sono andato a domani ma tu e credo però ricordati si scari tutti buono, però ricordati che è 4 di 1 perché? si, l'ampino ti deve andare solo tu tutti quanti con te bravo non c'è nessuno buono, 13 persone oh, come l'ultimo leggendario oh, c'è la oh, c'è la oh, mamma no, andai solo tu ma va solo lui bravo no, non si può fare un volo se no, c'è la dove stanno? solo io non li ho visti ah ah, con l'ultimo leggendario boom, 31 a 1 oh, no, non si può fare un volo oh, no, non si può fare un volo senza, 31 oh, un razza in faccia mi hanno girato 33 c'è la oh, un certo oh, un certo 1 oh, un certo tiếcate bravo 4 1 1 Molto uno Bravi No, Carlo Ah, già è l'Ajland L'agolo, l'agolo, l'agolo L'agolo, l'agolo 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 S'ha andato Ha jumpato Puccia Visto, visto Visto, l'agasola Eh, sì, infaci Bravissimi, eh Bravo, mirada Pura bene, però stiamo soffrendo, eh, Carlo Pura non stiamo soffrendo Vabbè, a me non serve niente Eh, vabbè, Carlo, ma pure non stiamo soffrendo Non prendere scavengico Eh Mi tolgo Corri, 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 corri Sì, sì, sì Guarda che cosa ce la fai Uno morto Sì Manca uno Grandi Grandi, ragazzo, bravo, c'è la sua vittoria Vai, bella, raga Vabbè, vabbè, tanto male, diamo il video Vabbè, raga, però c'è tutto Dai King e Dragoni Ciao, ciao Ho levato il video Grazie a tutti